Amiche e amici del mio canale di YouTube, benvenuti a questo nuovo video dedicato ai giochi enigmistici. Oggi risolviamo insieme alcuni giochi di enigmistica classica pubblicati sulla pagina della Sfinge della settimana enigmistica. La pagina della Sfinge è una raccolta di giochi che appartengono alla cosiddetta enigmistica classica. Possiamo suddividere i giochi enigmistici in due grandi categorie, quella popolare comprende il cruciverba e altri giochi simili, e quella classica comprende i giochi inversi e le criptografie. I rebus per certi aspetti sono una categoria parte intermedia fra queste due, e difatti nella pagina della Sfinge troviamo spesso anche due o tre rebus. Cominciamo anche noi con questo rebus, la cui soluzione è una frase di due parole, la prima di cinque lettere e la seconda di dodici. Raffigura una bussola indicata dalla lettera G, due astucci con delle penne, una delle quali indicata dalle lettere IS, e due re, due sovrani, indicati dalla lettera CI. Anche se di solito i rebus di questa pagina sono abbastanza facili, il metodo un puntino uguale a una lettera ci aiuta sempre. Ve lo consiglio, almeno finché non diventate solutori di media esperienza. Com'è? Poi cosa abbiamo in questo disegno? Nell'angolo in alta sinistra abbiamo un oblò. Ci serve semplicemente per capire che siamo in un ambiente nautico e quindi l'oggetto strano, che magari all'inizio potrebbe non essere facilmente identificabile, su cui è stata posta la lettera G, è appunto uno strumento di navigazione, quindi è una bussola. Però, a guardare meglio, la G è posizionata su un punto preciso della bussola. Indubbiamente indica il punto cardinale EST. Come vi ho già spiegato nei miei tutorial precedenti, la lettera G può seguire, o può trovarsi prima della parola. Siccome non esiste nessuna parola italiana che inizi con ESTG, sicuramente le prime lettere della soluzione di questo rebus saranno G E S T. Queste sono le prime lettere della prima parola della soluzione. Ce ne manca una e sarà sicuramente una vocale. Questa parola potrà essere GESTO, GESTI, GESTA oppure anche GESTE. Non abbiamo altre scelte. Allora, passiamo alle penne. Queste due penne sono indicate dalle lettere IS. Quindi immagino che questa I costituisca è la lettera finale di questa parola, mentre la S sarà la lettera iniziale della seconda parola, quella di dodici lettere. Che cosa hanno in comune o di diverso queste due penne? Forse una è stilografica, l'altra una penna biro, una è gialla e l'altra bianco-azzurra. La risposta sta nel cartellino del prezzo e nel fatto che, guardando meglio, le lettere IS indicano esclusivamente la penna di sinistra, non quella di destra. La penna di sinistra costa 70 euro, l'altra costa solo 12. Questo vuol dire che la penna indicata da IS è cara, mentre l'altra è a buon prezzo. Quindi S e cara sono le prime cinque lettere della seconda parola che compone la soluzione di questo rebus. Ne dobbiamo scoprire ancora sette. Di queste sette lettere due le abbiamo già. Sono la C e la I, che indicano forse non tanto i due re quanto il loro abito. Di sicuro la parola da associare alle lettere CI è una parola di cinque lettere. Finora la soluzione che abbiamo scoperto è gesti scara e non è plausibile che ci vadano qui le lettere CI, perché gesti scara CI non ci dice niente, non mi viene in mente nessuna parola che comincia con scaraci, ma se mettiamo la CI in fondo la soluzione è già alla portata di mano. CI indica i due mantelli dei re, i due manti. Quindi la soluzione di questo rebus è gesti scaramantici. Il secondo gioco è una zeppa sillabica. La zeppa sillabica, che adesso mi viene il dubbio se si dice zeppa o zeppa, consiste in una parola al cui interno viene inserita una sillaba, chiamata appunto in gergo linguistico seppa. Questa sillaba la trasforma in un'altra parola di senso compiuto. I esempi di zeppe sillabiche possono essere treno, trenino, basta, barista, ferto, cervietto e così via. Questo tipo di giochi di solito è caratterizzato da un titolo scritto in corsivo. A volte questo titolo ci aiuta. Altre volte, invece, anzi forse più spesso, questo titolo in realtà è fuorviante, ci può allontanare dalla soluzione perché suggerisce significati e contesti che poi in realtà hanno poco o nulla a che fare con la soluzione del gioco. Il gioco in sé è composto da una serie di frasi. A volte si tratta di veri e propri versi che hanno un certo valore poetico, eh, devo dire, perché sono scritti utilizzando a volte anche delle metriche precise e dei giochi di rime. Questo non avviene sempre, ma se ciò avviene, cioè se notate che questi piccoli componimenti hanno dei versi che rimano, ebbene la rima a volte può anche aiutare a scoprire le parole incognite, specialmente se si trovano alla fine del verso. Però non incapponitevi a cercare le rime perché non è detto che ci siano sempre. Ho parlato di incognite e non a caso, perché le parole che dobbiamo scoprire sono sostituite da una serie di lettere x. Di solito sono delle x minuscole, ma a seconda dei giochi possiamo trovare anche alcune y e alcune z, come se avessimo a che fare con delle piccole equazioni algebriche in cui x, y e z sono le nostre incognite che dobbiamo calcolare. Nel distico che forma questa seppa sillabica, la prima incognita è una parola di sette lettere. Lo capiamo perché al suo posto troviamo una serie di sette lettere x. La seconda parola è formata dalle stesse lettere della prima, ma con l'aggiunta di due y, che sono quella sillaba che noi dobbiamo inserire per creare una nuova parola che abbia un suo significato diverso e indipendente dalla prima. In questo caso il titolo non è fuorviante, consideriamolo dunque su serio. Poi la giustizia trionfò. Leggiamo questo distico come se fosse una poesia, con un suo ritmo. Da prima fu indiziato del delitto, non so, a voi, a me viene naturale delitto, anche perché questo è un bel indecasillabo. Se volete sapere di più su come riconoscere gli indecasillabi e gli altri versi della metrica italiana vi consiglio il mio libro Cose che scrivo. Lì lo spiego bene e spiego anche come conteggiare correttamente le sillabe. In breve, un indecasillabo è un verso in cui l'ultima vocale tonica occupa la decima posizione, ma vanno conteggiate in modo particolare. In questo primo verso della zetta esiste infatti una fusione tra la u finale di fu e la i iniziale di indiziato. Quindi va contato in questo modo. La prima fu indiziato del delitto. Questo fui è considerato una sillaba unica. Abbiamo che lit è l'ultima sillaba tonica e che tutto il verso è composto da undici sillabe. E il secondo verso prendiamo la parola delitto e ci aggiungiamo due lettere incognite, le due y. Dove andranno messe? Sappiamo che vanno messe qui, tra la e e la l. Quindi noi dobbiamo cercare una parola di questo tipo. Qui ci aiuta sia la parola in sé sia la musicalità del verso e il decasillabo. Un povero barbone de litto. Da prima fu indiziato del delitto, un povero barbone derelitto. Ecco la soluzione di questo gioco. Delitto derelitto. Ma poi, come dice il titolo, la giustizia trionfò e si capì, per continuare in versi, che il povero barbone derelitto colpevole non era del delitto. In questo modo, vedete, abbiamo creato il gioco contrario alla zetta sillabica, lo scarto sillabico. Da derelitto abbiamo scartato re e abbiamo creato delitto. Altri scarti sillabici. Da trenino facciamo treno. Da rista diventa basta. Cervietto certo. Il terzo gioco è un antipodo. Ne esistono di vari tipi. In questo antipodo, in particolare, prendiamo la prima parola e ne creiamo un'altra, mantenendo la lettera iniziale a suo posto, ma invertendo il senso di lettura di tutte le altre lettere. Esempi di questo tipo di antipodo. Minate che diventa metani, oppure anche metani che diventa minate. Bolla che diventa ballo e viceversa. Cotenna che diventa canneto o viceversa. Questo antipodo, in particolare, è una partina di endecasillabi in cui il primo e l'ultimo verso rimano. Mentre il secondo e il terzo hanno una rima vocalica, cioè una assonanza. Anche queste cose le spiego nel mio libro. Nella prima parola incognita, l'ultima x, vedete, è accentata. Quindi sappiamo che sarà una vocale e che la parola che dobbiamo cercare è una parola tronca. Tronca è una parola il cui accento tonico cade sull'ultima sillaba. Piana è una parola il cui accento tonico cade sulla penultima sillaba. Sdrucciola è una parola il cui accento tonico cade sulla terz'ultima sillaba. E bisdrucciola è una parola il cui accento tonico cade prima della terz'ultima sillaba. Adesso leggiamo questa quartina in modo ritmico, come se fosse una filastrocca. Anche calcando su questo ritmo, immaginiamo di declamare, per esempio, la vispa Teresa o qualcosa del genere. E usiamo una qualsiasi sillaba fittizia per riempire le parole che dobbiamo scoprire. Ecco, la cosa suonerebbe più o meno così. La sa e la tatata Maria Teresa ha lasciato Gilberto su dei piedi e poi si è fidanzata proprio ieri con un ragazzo adatta tradistresa. Questa specie di solfeggio ci può venire molto utile in diversi giochi della pagina della Sfinge, ma in questo gioco in concreto in realtà ci può anche portare fuori strada, perché l'autore non ha saputo comporre degli endecasillabi omogenei in cui gli accenti tonici sono distribuiti in modo uniforme. Diciamo che anche una caratteristica dell'indicasillabo della lingua italiana possedere una distribuzione non omogenea degli accenti tonici al suo interno. In particolare, mentre la prima parola incognita sappiamo per certo che è tatata, quindi è una parola tronca, la seconda non è detto che sia tattata, cioè sdrucciola, potrebbe essere tatata, una parola piana. Allora, la sai l'ultima non può essere ultima perché ultima è una parola sdrucciola. Noi dobbiamo cercare una parola tronca e quindi la sai la novità. La sai la novità, Maria Teresa eccetera eccetera. Anche la seconda parola non può che iniziare per n, mentre le altre cinque lettere dobbiamo leggerle in senso contrario. N attivo. Maria Teresa si è sposata con un ragazzo nativo di Stresa. La soluzione di questo antipodo è novità nativo. Ah, dimenticavo, il titolo di questa quartina è Pettevolezzi e in effetti ci poteva aiutare nella soluzione. Il quarto gioco è un anagramma. Sapete tutti cos'è un anagramma? Ne abbiamo visto due begli esempi nel tutorial sull'anarebus. Oddio, se erano belli dovete giudicarlo voi. Nell'anagramma si prende una parola e se ne rimescolano le lettere in modo da formare un'altra parola di senso compiuto. Se avete giocato a scarabeo o a literati, su internet, adesso poi che l'hanno chiamato a Palabraados, Angry Words, sono tutti giochi che si basano su anagrammi, perché viene consegnata al giocatore una serie di tesserine, ciascuna delle quali è una lettera, e il giocatore le deve rimescolare, creando parole di senso compiuto. Ovviamente più sono lunghe, meglio è. Anche il gioco delle cifre e delle lettere, che andava in onda, mi sembra, su Telemonte Carlo anni fa, era impostato su questo concetto. Allora, qui abbiamo una bella strofa di sette endecasillabi intitolata Che figura all'arena? Titolo che ci aiuta a inquadrare l'ambientazione e l'argomento, anche delle parole che formano la soluzione di questo gioco e che noi dobbiamo scoprire. Però vi dico subito che, nonostante gli ultimi quattro versi di questa strofa abbiano una rima baciata, vedete, seccato, gridato, avanti, elefanti, non contiene altre rime. Quindi se noi pensiamo che la prima e la seconda parola incognite finiscano per ida, andiamo fuori strada. Non ci incaponiamo a trovare rime o a trovare ritmi, se poi in realtà non ci sono. È soltanto un consiglio, una ipotesi, diciamo, di lavoro che a volte può essere utile, altre volte no. Possiamo comunque leggere anche questo gioco come una filastrofa, calcando molto sugli accenti ritmici. Prima di farlo però vediamo che le parole che dobbiamo cercare sono due parole di sei lettere, sei lettere ciascuna, e una, come detto, è l'anagramma dell'altra. Allora, declamiamo come se fossimo alle elementari, a conclusione dice l'esta ida, ha tenuto in pianissimo il tatata, un si bemolle che sembrava tata, ecc. Il ritmo di queste indecasillabi ci porta a pronunciare la seconda incognita, cioè la seconda serie di x, come se fossero due sillabe e non tre. E questo, per chi ha un minimo di conoscenza delle regole della prosodia italiana, fa capire che la seconda incognita è una parola che inizia per vocale e che, detto tra parentesi, perché qua in realtà non ci serve più di tanto nella soluzione di questo gioco, questa vocale si lega alla a finale di sembrava. Non è x, ma in realtà sappiamo che questa prima x è una vocale. Ora, chi può avere tenuto un si bemolle in pianissimo all'Arena di Verona durante una rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi? Un cantante lirico, ovviamente, oppure una cantante lirica. Dobbiamo allora cercare una parola di sei lettere che possa definire un cantante lirico o una cantante lirica. Tenore, direi che è la prima parola che ci può venire in mente al proposito. Per capire come sembra quel si bemolle, un si bemolle che sembrava xxx, dobbiamo anagrammare la parola tenore ricordandoci che questo anagramma di tenore dovrebbe cominciare con una vocale, che in questo caso non potrà che essere una o oppure una e. Rileggiamo adesso quest'intera strofa tralasciando qualsiasi aspetto metrico o poetico per concentrarci sul suo significato, sulla scena che rappresenta, sul suo contenuto che cosa ci dice, una vera prodessa, dice. Però si è seccato invece Salvatore e gli ha gridato, allora si va avanti, voglio vedere in scena gli elefanti. Salvatore è, immaginiamo, un appassionato spettatore dell'arena che sta mostrando una certa impazienza per questo si bemolle un po' troppo prolungato. Infatti, il secondo verso dice che il tenore ha tenuto questo si bemolle tanto da farlo sembrare eterno. Ecco la soluzione di questo anagramma, tenore eterno. La e va qua, la e va qua, la n va qua, l'altra e va qua, facciamo in tempo a fare ancora un gioco, se siete d'accordo oppure voi. È una aggiunta iniziale con una chiave che ci spiega che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo indovinare una parola di quattro lettere e crearne un'altra di cinque lettere, aggiungendo una lettera all'inizio della prima parola. Alcuni esempi di aggiunti iniziali possono essere amici, camici, orda, corda, conto, sconto. A differenza dei giochi precedenti, questo non è una strofa di versetti nella quale dobbiamo trovare delle parole mancanti o nascoste dalle x. No, questo è un doppio indovinello. È intitolato un ottimo Lambrusco ed è uno di quei casi in cui il titolo è assolutamente fuorviante. Vediamo subito perché. Qui l'enunciato è questo scuretto mosso, puntini, è di gran razza. I puntini ci fanno capire che questo scuretto mosso è la definizione della prima parola di quattro lettere, mentre è di gran razza è la definizione della seconda parola di cinque lettere. La seconda parola, ricordate, è data dalla prima parola più una lettera iniziale aggiunta. Il titolo perché è fuorviante? Perché ci fa pensare al vino. Sembra infatti che dica questo vino mosso, cioè frizzantino, di colore rosso, scuretto, che sarebbe il Lambrusco, è un vino di gran razza. E invece no, dobbiamo dimenticarci del vino perché qui si parla di tutt'altre cose. Scuro, per esempio, dobbiamo considerarlo come sostantivo. Sostantivo e non come aggettivo. Cos'è uno scuro? Gli scuri sono un tipo di infisso che serve a coprire l'esterno di una finestra o di una porta finestra per proteggerla dalla pioggia e dalla luce esterna. Allo stesso tempo gli scuri oscurano anche la luce della casa, impedendo che sia visibile all'esterno. Durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale i nostri nonni e i genitori chiudevano accuratamente gli scuri in modo che i piloti degli aerei non potessero vedere le luci delle loro case e quindi non sapessero esattamente se stavano sorvolando un centro abitato o una zona periferica o industriale. All'epoca la guerra non poteva essere chirurgica e intelligente, ammesso e non concesso che oggi lo sia, e se tutte le finestre erano opportunamente oscurate da questi scubi, c'era maggiore possibilità che le bombe potessero cadere in una zona non abitata o poco abitata. Lo scuro è dunque un infisso ad anta. L'anta è un rettangolo di legno che si apre e si chiude girando sui cardini e guarda caso, guarda caso, anta è proprio una parola di quattro lette. Quindi questo scuretto mosso corrisponde alla parola anta. È la soluzione della prima parte di questo indovinello. Adesso non ci resta che aggiungere una lettera iniziale alla parola anta e avremo la soluzione della seconda parte di questo indovinello, corrispondente alla definizione. È di gran razza. La razza è un pesce cartilagineo dalla tipica forma romboidale provvisto di una lunga coda. Esiste un certo tipo di razza, piuttosto grande, di colore nero o particolarmente scuro, che si chiama manta. Quindi ecco risolto il gioco. Anta, manta. Se per caso avessimo capito subito la seconda parola, da manta avremmo risolto il gioco semplicemente togliendo l'iniziale e saremmo arrivati alla parola anta. E avremmo risolto il gioco tramite il procedimento linguistico opposto, che si chiama scarto iniziale. Altri esempi di scarto iniziale. Camici, amici, corda, ord, sconto, conto. Bene, cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Se vi è piaciuto e se volete vedere altri contenuti come questo, fatemelo sapere nei commenti. Suggeritemi qualche gioco di cui volete capire meglio i trucchi e i meccanismi e scrivetemelo qui nei commenti. E poi mettete un like a questo video, condividetelo e iscrivetevi al mio canale attivando la campanella delle notifiche. Grazie e ciao, alla prossima!